Quale sarà il futuro del libro stampato nell'era di internet e del digitale? Riuscirà a sopravvivere, ad avere lo stesso fascino? A questa domanda ha cercato di rispondere un famoso sociologo e storico del libro, Robert Danton, che ha tenuto un Alexio Magistralis a Perugia. Lo ha incontrato per noi Antonella Marietti. Tranquilli, il libro è vivo, sta bene e gode di ottima salute. Una salute che può solo migliorare nell'era della tecnologia e del PC. Ecco, semmai il libro sta cambiando e può farlo in meglio. Parola di Robert Danton, uno che i libri non solo li legge ma li studia come esseri viventi. Il professore americano è infatti tra i sociologi e storici del libro più apprezzati ed è arrivato a Perugia per un Alexio Magistralis a Palazzo Donini, a chiusura delle iniziative del Maggio dei Libri. Il fatto che il libro stia bene non vuol dire che non sia cambiato, tutto è in evoluzione. Stiamo andando verso un futuro digitale, ma la gente tende a minimizzare e a drammatizzare. Il libro digitale dunque non ucciderà quello stampato. È questo il grido del professor Danton, che però coglie la ricchezza che può avvenire dall'innovazione. Immagini, video e il mondo dell'editoria possono mettersi insieme e creare nuovi tipi di libro. Libri cioè con supporti digitali, con contributi extra a fruibili in rete e tanto altro. In America Danton è direttore della biblioteca di Harvard, che sta portando avanti un progetto maestoso, quello di una libreria universale dove confluiscano tutti i libri d'America, digitalizzati e pronti per essere letti da chiunque. Certo di mezzo ci sono i diritti, gli interessi economici, i guadagni delle case editrici, ma Danton ci sta lavorando nella speranza di dar vita alla biblioteca del futuro, dove la cultura viene prima del profitto e dove la cultura è democrazia.